Buongiorno e ben trovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il primo Tg che apriamo con il cambio colore delle regioni, atteso come tutti i venerdì il monitoraggio della settimana con le consuete ordinanze del Ministro della Salute Speranza. Sono due le regioni che rischiano di finire in zona rossa ovvero Sicilia e Basilicata, in particolar modo la situazione dell'isola è delicata, già il capoluogo Palermo è praticamente in semi lockdown, confermata un'altra settimana di zona rossa per Val d'Aosta e Sardegna, mentre sono due le regioni che spingono per passare invece dalla fascia rossa a quella intermedia, l'arancione ovvero la Campania e la Puglia, in particolar modo la regione governata dal presidente De Luca a un RT che è in miglioramento, nonostante la soglia dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti non sia del tutto rassicurante, problemi in rianimazione anche per Lombardia e Piemonte, ma al momento non sono previsti cambi all'orizzonte, ci sono anche delle regioni che hanno numeri molto buoni, praticamente da fascia gialla, si parla di Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano, ma come è noto queste modifiche per riportare un po' il sistema a quello che era in precedenza, prima del mese di aprile, si dovrà attendere probabilmente i primi di maggio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato nell'informativa alla Camera dando un messaggio di determinazione e fiducia, ha detto non bisogna sottovalutare le difficoltà che ci sono, ma ci sono le condizioni per poter guardare con fiducia la fase che si sta aprendo, c'è la possibilità di raccogliere in maniera importante i risultati dei lavori che abbiamo fatto con i vaccini, inoltre tra aprile e giugno riceveremo il triplo delle dosi. Sentiamo proprio un estratto delle sue parole. Prima di qualsiasi altra considerazione sulla campagna di vaccinazione c'è una domanda di fondo alla quale dobbiamo provare a rispondere a distanza di oltre un anno dal primo focolaio di Codogno. È la domanda che ci sentiamo ripetere ogni giorno, è la domanda che si pongono tutti gli italiani di ogni età e condizione sociale. Quando ne usciremo? Quando comincerà la vera ripartenza dopo mesi in cui il virus ha moltiplicato le sofferenze, le difficoltà economiche e la solitudine di milioni di donne e di uomini? Ecco perché voglio dare oggi da Ministro della Salute innanzitutto un messaggio di determinazione e di fiducia. Non sottovaluto le difficoltà che abbiamo ancora davanti, né le sofferenze delle persone, ma credo che ci siano le condizioni per guardare con ragionata fiducia alla fase che si sta aprendo. In ogni giorno di questa nostra terribile esperienza ho avvertito l'obbligo civile e morale di dire sempre la verità al Paese sulla situazione epidemiologica. Resto convinto che questo sia un dovere inderogabile di chi ha responsabilità di governo. Ho detto la verità quando era scomoda, è sinonimo di sacrifici e lo faccio adesso, prospettando l'inizio di una possibile fase diversa, proprio grazie alla campagna di vaccinazione che oggi supera 14 milioni di somministrazioni. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da molti mesi tra mille difficoltà e dentro un'emergenza sanitaria senza precedenti, aggravata da varianti più pericolose e non prevedibili. Stiamo ai fatti, agli elementi che delineano la possibilità di una fase nuova. Il primo fatto, i numeri, che come sempre sono più chiari di mille parole. Tra dicembre e marzo abbiamo ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino. Tra aprile e giugno ne riceveremo oltre il triplo. È un primo risultato che attendevamo e che ci siamo impegnati a fondo per ottenere, l'inizio di una fase davvero differente. Si tratta con ogni evidenza, di numeri importanti, sufficienti ad abbassare il dato quotidiano delle vittime del Covid, a ridurre la pressione sulle nostre terapie intensive e sugli ospedali, a ostacolare in modo significativo la trasmissione del virus. È questa la prima e necessaria condizione della svolta verso la ripresa. Non dimentichiamolo mai. I vaccini sono la chiave vera per aprire la nuova stagione. Il secondo fatto. In queste ultime settimane abbiamo creato le condizioni per mettere in campo un numero molto alto di vaccinatori. Ci sono le coperture economiche per far fronte a questa spesa e naturalmente il Governo è pronto in ogni momento a rimpinguare il fondo vaccinazioni in caso di necessità. L'Italia è quindi pronta ad una ulteriore accelerazione. Abbiamo siglato in queste ultime settimane accordi necessari con categorie molto importanti, sempre d'intesa con le Regioni, che sono pronte a impegnarsi in uno sforzo condiviso. A questo proposito, ripeto ancora una volta, numeri che ho già ricordato in altre circostanze. Grazie ai protocolli siglati possiamo contare su circa 42.000 medici di medicina generale, su circa 7.000 pediatri di libera scelta, su circa 38.000 medici specializzanti, su circa 18.000 specialisti ambulatoriali, su 63.000 odontoiatri e poi ancora su 270.000 infermieri del Servizio Sanitario Nazionale, che in un'apposita norma abbiamo autorizzato a poter svolgere prestazioni aggiuntive al di fuori dell'orario di lavoro. E poi ancora 25.000 farmacisti hanno iniziato il loro corso di formazione e hanno dato disponibilità circa 11.000 farmacie che diverranno luoghi di vaccinazione. A tutte queste donne e tutti questi uomini va la profonda gratitudine del Governo e credo di tutto il nostro Paese. Ora i dati nazionali con il bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sono 16.974 i nuovi tamponi positivi a fronte di 319.633 tamponi processati, con uno tasso di incidenza che sale dal 4,8 di mercoledì al 5,3 della giornata di ieri. I deceduti sono stati 380, mentre invece 73 in meno i posti occupati in terapia intensiva e discesa anche importante di 782 posti letto per quanto riguarda la degenza ordinaria. Per quanto riguarda invece le regioni che hanno fatto registrare più casi nelle ultime 24 ore, in testa la Lombardia con 2.722, poi c'è la Campania, infine Puglia, Sicilia e Lazio. Proprio in Campania sono 2.224 i nuovi positivi al Covid a fronte di 20.325 tamponi processati e 609 persone sintomatiche. La curva del contagio rimane intorno al 10-11%, è stata ieri del 10-94%. 40 le nuove vittime, di cui 23 nelle ultime 48 ore 17 in precedenza, importante per il numero di guariti, 2.168 persone che hanno avuto il tampone negativo. Aumentano però le terapie intensive, più 9 posti letto occupati in sole 24 ore, mentre invece calo della degenza ordinaria di 28 unità, sono 1.557 i posti letto occupati. Problemi a Napoli alla mostra d'oltremare per la campagna vaccinale con alcune persone che non sono riuscite ad ottenere la loro dose di vaccino, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la situazione alla normalità. In una nota l'asla Napoli 1 ha spiegato che alcuni cittadini sono stati convocati presso l'hub della mostra d'oltremare nel pomeriggio di ieri dopo essersi registrati come vulnerabili o disabili. Poi nel momento della conferma c'è stato più di qualche problema poiché mancavano quelli che erano i requisiti appunto indicati al momento dell'inserimento in piattaforma e dunque decine hanno rifiutato questa sottoscrizione del modulo pretendendo comunque di essere vaccinate. queste persone spiega l'aslo oltre ad aver costretto il personale a rallentare le vaccinazioni degli aventi diritto hanno messo a rischio l'incolumità con atteggiamenti violenti non solo degli operatori sanitari ma anche degli altri cittadini. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine che ha consentito di riportare la situazione alla normalità. L'asla Napoli 1 comunque stigmatizza questi tentativi di aggirare le regole che vengono poste a garanzia di una celere vaccinazione per i cittadini vulnerabili e disabili e dunque viene anche indicato che si procederà a denunciare il tutto alle autorità giudiziarie. Il prossimo primo maggio nuova protesta da parte degli operatori del turismo della costiera sorrentina ed è stata scelta un'altra località turistica molto importante di tutta la regione campagna ovvero Pompei a decidere. Data e luogo di questo incontro sono state le varie sigle dei sindacati dei lavoratori delusi dalle posizioni non risolutive per rendere sorrento le altre località turistiche. Covid free il responsabile sindacale Rosario Fiorentino ha detto senza vaccini lavoro e ristori siamo in una situazione difficile con un grosso affanno invece se siamo tutti insieme tutti uniti possiamo farcela possiamo far sentire la nostra voce fare in modo che questa situazione possa cambiare. Ci spostiamo ora a Somma Vesuviana perché durante i lavori di recupero della cappella ottocentesca del Santissimo Rosario proprio nel comune del napoletano è stata identificata la tomba del filosofo Francesco Montalto esponente di rilievo del novecento italiano. Sul punto sentiamo le parole di Alessandro Masulli proprio il direttore dell'archivio storico del comune di Somma Vesuviana. Questa sbarra del cantiere si trova alla tomba del grande filosofo italiano Francesco Montalto nato nel 1861 e morto nel 1946 a Roma. Il suo corpo per volere personale fu trasferito a Somma Vesuviana qui nel cimitero per riposare accanto a quello dei figli Maria e Antonio. È stata diciamo per noi una scoperta sensazionale identificare questa tomba. Sapevamo che appartenesse Montalto ma non sapevamo che sotto c'erano i resti mortali di questo grande filosofo amico di Benedetto Croce e competente di Giovanni Gentile ex ministro dell'istruzione. Una ricerca riuscita grazie anche al buon lavoro apportato dall'amministrazione cittadina che sta recuperando una delle cappelle più importanti del nostro camposanto risalente al 1860 e appartenuta alla venerabile arciconfraternita del Santissimo Rosario. Nei prossimi giorni saranno qui in città i discendenti del professor Montalto i quali hanno saputo di questa pregevole tomba in marmo di Carrara e con loro attueremo un programma di recupero atto a concederla alla nostra città. I resti del professor Montalto sono qui, l'ho detto prima perché il suo volere era quello di riposare accanto ai suoi figlioletti Antonio che morì di tubercolosi e Maria che morì di endocardite. Antonio morì a Somma Vesuviana in via Strettola nella proprietà Raimondi, Maria morì a Napoli e fu trasferita qui a Somma e le secque si tennero nella grande monumentale chiesa di San Domenico all'epoca retta dai teresiani scalzi, tameritani scalzi teresiani. Perché era una Somma? Era una Somma perché Somma all'epoca nel 1905 era un luogo di villeggiatura e tanti, al di là di tutto poi c'era questa stupenda amenità del luogo che fece sì che tantissimi dottori napoletani inviassero le persone, specialmente i tubercolotici, a guarirsi. Quindi insomma era per l'area della montagna? Sì sì era l'area della montagna, diciamo che le malattie del ricambio erano qui diciamo curate per bene insieme a Ravello e insieme alla stessa Napoli. Grazie. Dunque i dati che non sono stati diramati dall'Asl di Caserta sono stati dedotti appunto dal bollettino regionale e come si diceva dei 2.224 che abbiamo analizzato a inizio del telegiornale sono proprio 1.261 che risiedono a Napoli e a Caserta 342 positivi. Quindi chiudiamo con il calcio, giornata importante per il Napoli che ha annunciato una novità per la sfida contro l'Inter ovvero la nuova divisa che verrà indossata proprio nella sfida di domenica contro la capolista e la maglia che sarà anche utilizzata la prossima stagione firmata dal noto stilista Marcelo Burlone. Nella nota diramata dal club partenopeo si legge di questo accordo con Marcelo Burlone e Kappa un brand per far aumentare quella che è l'importanza internazionale della società sportiva calcio Napoli, una linea celebrativa per trasmettere cultura, tradizione e tutta l'internazionalità proprio del Napoli grazie alla visione e l'estero creativo di Marcelo Burlone. Una vetrina della presentazione ufficiale appunto sarà la partita del prossimo 18 aprile quando le divise del noto stilista verranno indossate contro l'Inter. Nella sfida però mancherà il portiere colombiano Davido Spino uscito infortunato a seguito della partita contro la Sampdoria, una distrazione del bicipite femorale per questo motivo resterà fuori una ventina di giorni saltando praticamente quattro partite. Vittoria nella giornata di ieri per la Casertana che ha battuto il Monopoli nel recupero della sfida di Serie C non giocata a suo tempo per uno focolaio che ha colpito la compagine pugliese dunque il sogno playoff rimane ancora vivo. Al termine dei 90 minuti analisi di Mister Guidi e del portiere Avella le ascoltiamo in conferenza stampa. Sì la squadra ha fatto una grande partita ma è la risposta anche a tutti quelli che pensavano che questa squadra avesse mollato o che non credeva più ai playoff non è assolutamente vero. Chiaramente a noi la partita di Viterbo ci ha fatto male perché potevamo fare di più, abbiamo sbagliato e forse anche la troppa voglia di raggiungere un risultato importante, una partita in cui sentivamo tutti tantissimi ci ha frenato ed è un errore che abbiamo metabolizzato. Volevamo rendere al Presidente, alla società, a Caserta e a tutti i tifosi della Casertana, volevamo renderli orgogliosi perché questa squadra è composta da dei ragazzi che amano la Casertana, che soffrono per la maglia e la sudano sempre. Chiaramente gli errori ci sono, ci saranno, però questi sono ragazzi meravigliosi e noi vogliamo continuare a giocare al massimo delle nostre forze consapevoli che a volte le cose che prepariamo, le cose che vogliamo fare non vengono. Però questo non deve mai minare la professionalità e il carattere di questi ragazzi perché amano la Casertana, sono orgogliosi di sudare la maglia e quindi nessuno si deve permettere di mettere in dubbio la professionalità di questi ragazzi e soprattutto questi ragazzi soffrono quando non ci riescono perché sanno quanto sono calorosi i tifosi della Casertana e vogliono regalare loro delle grandi soddisfazioni. Fortunatamente è andato bene, sarò anche un po' fortunato in qualche occasione, però va bene così. Il Monapoli ci ha provato fino alla fine e sono stati anche bravi, ci hanno messo lì in area, non riuscivamo a uscire, però non abbiamo tenuto a botta e abbiamo dimostrato che ci siamo. No, no, non è così perché siamo tutto un gruppo di giovani e quindi il mister ce lo dice sempre, se vogliamo ambire a qualcos'altro ci deve avere fame, anche quando praticamente secondo il percorso nostro siamo partiti da lì giù e adesso siamo nei play-off, bisogna sempre avere fame, sempre voler fare di più e quindi l'abbiamo dimostrato. Questo è un gruppo unito, qualcuno l'ha messo in dubbio nelle due partite precedenti ma ancora una volta abbiamo dimostrato che nelle difficoltà noi sappiamo come uscirne e l'unico modo che conosciamo è quello di stare insieme, uniti e solidi, quindi è stato così. Con il calcio chiudiamo, questa edizione del nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata, arrivederci! Grazie a tutti!